Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Osea di Domenico ha perso il padre durante la prima ondata Covid. Il signor Alfiero si è sentito male il 31 marzo 2020, portato subito in ospedale ad Atri e risultato positivo al Covid. Fino al 20 aprile è riuscito a parlare con i suoi cari attraverso la tecnologia. Poi purtroppo la situazione è peggiorata. Ieri però è arrivata una raccomandata al figlio da parte dell'Agenzia delle Entrate per una mancata vaccinazione, la rabbia e l'indegnazione da parte dei suoi cari. Come sapete, cronaca nazionale, non abbiamo avuto la possibilità di salutarlo, di fargli un abbraccio, un'ultima carezza e questa cosa ha creato tanto, tanto dolore che purtroppo abbiamo dovuto condividere con i nostri cari e sopportarlo. Non avevamo altra possibilità. Purtroppo ieri mattina abbiamo ritirato una raccomandata indirizzata a mio padre dall'Agenzia delle Entrate. Quindi l'abbiamo aperta e con gran stupore abbiamo letto che l'Agenzia delle Entrate sta avviando un procedimento sanzionatorio nei confronti di mio padre deceduto per Covid il 26 aprile 2020 perché non ha effettuato questo vaccino. Di fronte a quella lettura mi sono indignato, sono arrabbiato e quindi mi sono sentito in obbligo di denunciare questa roba perché non è possibile. Figuriamoci se mio padre avesse avuto la possibilità di effettuare questo vaccino forse mio padre stava qui, avrebbe conosciuto suo nipote che è nato a due mesi dalla sua morte che porta il suo nome. Non posso accettare questa raccomandata. Purtroppo noi italiani spesso lasciamo correre questi eventi, invece questa volta per rispetto di mio padre mi sento di denunciare pubblicamente la pubblica amministrazione e a distanza di due anni ricevete un avviso di avvio procedimento sanzionatorio, cioè non si può accettare una cosa del genere. Osei ha denunciato quello che è successo a lui e che provoca ancora di più dolore e rabbia dopo una perdita così tanto importante. E' una mancanza di rispetto nei confronti della persona deceduta. Mio padre non c'è più e viene oggi sanzionato di un qualcosa che la pubblica amministrazione dovrebbe sapere. La denuncia che voglio fare è questa loro mancata attenzione provoca un gran dolore, quindi delle persone non si rendono conto che magari una svista nei miei confronti hanno riaperto una ferita.